bravo dai la miseria a mo che facevamo prima dalla finetta facevamo prima dalla finetta si dobbiamo pulirlo perché sennò è quel nocciolino del cavolo qua porca roca questo si lo dovrà tagliare anche se non è perché è infastato dentro devi tirar via questo se no ti rompi i coglioni qualcosa lì taglia via anche questo seve se no non viene via taglia che almeno taglialo qua che cade basta è una robigna secca è una robigna secca c'è come sono dure tanto è sotto là metterlo lì davanti eh sì esatto almeno tiene su un po' le rive fino a dove sono caduto no aspetta seve è diventato pericoloso eh no vedi che va di là e l'asino e l'asino arrivo arrivo no non è che mi dà fastidio ma viene fuori qua seve viene fuori qua se lo lasci lì è per quello che l'ho tolto tira giù e basta vai vai resta fuori seve perché c'è sotto questi che fanno la molla basta dai lascia qui boh basta lascialo qua a posto senti i tuoi ciocci quelli si sentono fino a coso cazzo che cazzo hai comprati che ti risponde lì che ti risponde è che ti risponde Grazie a tutti.